Il problema delle polveri sottili è un problema serio, forse sottovalutato, inevitabile però dal momento che nel centro storico dell'Aquila si sta procedendo con la ricostruzione. Tanti cantieri e il disagio, anche quello era prevedibile però, di famiglie che sono tornate ad abitare il centro e che si ritrovano a respirare ogni giorno le polveri sottili che vengono fuori dalle lavorazioni. A regolare le cose c'è un protocollo d'intesa con Ance, Asla e Comune, ma di fatto ci dicono le cose non sembrano migliorate e forse sarebbero necessari maggiori controlli. Le imprese dovranno attenersi a questo protocollo. Una questione da non sottovalutare ma non solo per i residenti, per gli operai dei cantieri stessi. Erano stati fatti gli incontri preliminari con l'Asl e quindi per stilare un protocollo d'intesa. Non credo che sia stato portato avanti e soprattutto bisogna vedere se vengono effettuati i controlli da parte del Comune sui cantieri per le procedure corrette da applicare per quanto riguarda le opere di demolizione e ovviamente tutte le lavorazioni che poi comportano ogni cantiere. È chiaro che diversi cantieri che lavorano nello stesso momento complicano la situazione a livello di polveri sottili e di sostanze comunque inquinanti e nocive nell'aria. Chi ne patisce le conseguenze sono a parte gli operai stessi ovviamente che lavorano sui cantieri ma anche chi sia per lavoro che perché magari è ritornato in quelle poche abitazioni che sono tornate a vivere nel centro storico dell'Aquila rischia di rovinare la propria salute e questo non può essere concesso.